L'America è lontana, dall'altra parte della luna, cantava Lucio Dalla. Un po' come questa Cina che vince quasi tutto. Eppure l'Italia, argento nel fioretto femminile come i ragazzi, esce da questa finale quantomeno con due assalti vinti. Ancora non ci basta, ma è un segnale. Le ragazze ci credono. E non mancherà loro nemmeno la voglia di dare il massimo, proprio come quel desiderio disperato, incrollabile, irrefrenabile, che porta Bebe a tirare oltre il dolore, prima di arrendersi alla chiamata dell'ultimo match. E quindi solo applausi per Trigilia, Vio, Mogos e Biagini. La spada maschile si arrende all'Ucraina nei quarti, con qualche rammarico, tanta fatica sulle spalle, ma la consapevolezza di poter contribuire al medagliere. Quel medagliere che ci consacra al secondo posto, primi fra i terrestri e carichi più che mai per la prossima gita sulla Senna. Del mondiale che dire? Organizzazione del CS Terni perfetta, tribune piene, marchio Italia che non si smentisce. In questo campo il resto del mondo sono gli altri.